21 luglio 1914. Non vi era più corpo, non vi era più sensazione. Esisteva solo una colonna di luce che saliva dal luogo in cui si trova abitualmente la base del corpo, sino al luogo in cui si trova abitualmente la testa, per formare là un disco di luce come quello della luna. Poi da lì la colonna saliva sempre fin molto lontano, al di sopra della testa, per sbocciare in un immenso sole splendente e multicolore, da dove ricadeva una pioggia di luce dorata che ricopriva tutta la terra. Poi lentamente la colonna di luce è ridiscesa, formando un ovale di luce viva, risvegliando e mettendo in movimento, ciascuno in un modo particolare, secondo un modo vibratorio speciale, i centri che si trovavano al di sopra della testa, in corrispondenza della testa, della gola, del cuore, in mezzo al ventre, alla base delle reni e ancora più in basso. All'altezza delle ginocchia, la corrente ascendente e la corrente discendente si ricongiunsero e la circolazione si fece quindi in un modo ininterrotto, avvolgendo tutto l'essere come un immenso ovale di luce viva. Poi lentamente la coscienza è ridiscesa, di tappa in tappa, con un arresto in ogni mondo, sino a che la coscienza del corpo non è ritornata. La ripresa di coscienza del corpo fu, se il ricordo è esatto, la nona tappa. In quel momento il corpo era ancora del tutto rigido e immobile.